Ciao a tutti e bentornati in questo video di unboxing. Oggi vedremo insieme le macchine formula 1 Ferrari. Bene iniziamo da questa questa è la prima la 1 e questa macchina è fatta bene guardate questa può correre veramente spostiamo l'altra si possiamo giocarci quando vogliamo potremmo farci molte avventure vero ladybug certo anche tutti certo bene ora ora vediamo un po guardate tutta fatta belli c'è il vecchio marchio della fiat la vodafone e tutti i marchi è bellissima sta Ferrari guardate com'è bella è l'unica Ferrari che mai esistita al mondo come sono belle è vero è proprio bella questa Ferrari e finiamo con questa la formula 8 è bella è fatta benissimo guardate quante è bella guardate com'è bella questa Ferrari è vero è bellissima si guardate è fatta molto bene come vedete l'hanno fatta davvero benissimo io vorrei leggere il quattro ruote delle Ferrari è troppo bello ma puoi vedere anche le mie Ferrari non è giusto non è vero davvero certo andiamo a vederle ne ho proprio la collezione ciao sono il ferrarista e ho vinto la tazza Ferrari come è bella e l'orsetto Ferrari è bellissima vero certo Ferrari è la moda ragazzi lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao